Officina Napolitano, Centro Revisioni, Gommista, Soccorso Stradale, Installazione e Revisione Impianti GPL e Metano, Revisione Bombole CNG4 in Composito, Gancio Traino, Carrozzeria ed Elettrauto, Officina Meccanica, Lavorazione Vetroresina, Riparazione e Verniciatura Imbarcazioni, Vendita Carrelli ed Appendici per Imbarcazioni. Per chi si serve del Centro Revisioni, gradito omaggio Officina Napolitano, di Napolitano Michele e Compani Taranto, via Antonio Torro, 68, 70, 72, 74 Vicinanze, viale Unicef, nei pressi dell'autolavaggio Opie & Wash 099 779 8929 Vi aspettiamo! E naturalmente un sereno Natale ed un felice 2020 a tutti! Grazie!